Salve di nuovo miei signori Ora vado a fare un'altra seduta Questa volta La webcam non c'è C'è solo una telecamera professionale marcata Samsung Ora vedete che è molto maneggevole La porta è chiusa La finestra è chiusa Sotto al tavolo non c'è nessuno E non c'è nessun filo sul pendolo Vedete? E neanche la caramita Vogliamo controllare meglio? Va bene Controlliamo meglio Giusto per azzerare qualsiasi ipotesi Eccolo qua Il grandissimo Come vedete Non c'è un bell'accidente di niente E non c'è nessuno In camera mia Oltre a me Perfetto Torto ogni dubbio Ci accingiamo A prepararci Eccola qui Ok Ok Ci siamo Vediamo se Sara c'è Può parlarci Ci sei Sara? Facciamo Diamo un attimo Un impulso Per ricaricare Sento già le prime forze Ci sei Sara? Perfetto Come stai? N O N Non M A L Sta girando E Non male Come mai ti sento così debole oggi Sara? Ti U U U Wow Sento il braccio che mi si alza F F E E Vedete che giro sempre più veloce? e di e b io sento una forza che mi sta spingendo la mano c'è la maglia o l e 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 perché io non riesco a dare un senso compiuto a quello che scrivi e 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 sembra che vada su tre lettere